All'Aquila, 5 anni dal sisma 2009, il contributo di autonoma sistemazione riguarda ancora tanti cittadini, oltre 4.600, con un costo mensile superiore a un milione di euro. Per ottimizzare le spese, il Comune dell'Aquila pertanto ha approvato una delibera che prevede una progressiva assegnazione degli alloggi case e mappa agli attuali beneficiari del Cassa, con un contributo di compartecipazione, come spiega l'assessore all'assistenza alla popolazione Fabio Pelini. L'obiettivo principale di questa delibera è quella di equiparare coloro che era un affitto prima del 6 aprile e che oggi percepiscono il contributo di autonoma sistemazione a i cittadini che con lo stesso status, cioè affittuari al 6 aprile, oggi vivono in progetto case e mappa, fondi immobiliari o affitti concordati. Così come questa seconda tipologia, cioè coloro che hanno le case sostanzialmente e pagano già dal dicembre 2011 un canone di compartecipazione, è giusto che anche gli affittuari che percepiscono il Cassa in qualche modo vengano ricondotti sullo stesso piano di quei cittadini e quindi noi li chiameremo in via prioritaria per l'assegnazione di un alloggio e in caso di rinuncia perderanno il contributo di autonoma sistemazione, fermo restando che la rinuncia non è per sempre, nel senso fin quando avranno i requisiti per l'assistenza potranno rivolgersi a noi per chiedere l'assegnazione di un alloggio. Quindi io rinuncio oggi perché non ne ho bisogno e magari fra sei mesi a condizioni mutate e in presenza sempre dei requisiti previsti alla normativa richiede un alloggio e noi chiaramente glielo daremo. Le persone oggi in autonoma sistemazione sono circa 4.200, poi è un dato che chiaramente cambia tutti i giorni, però siamo su quella cifra lì. Quanto si potrà risparmiare non è difficilmente ipotizzabile oggi, però possiamo dire quanto abbiamo già risparmiato e da quando l'assistenza della popolazione è passata dalla struttura commissariale, dall'SGE appunto al Comune dell'Aquila e quindi nel gennaio 2012, in due anni il contributo mensile è passato da oltre 3 milioni di euro a 1.257.000 euro che è stata l'erogazione dell'ultimo contributo, quello di gennaio. Continueremo a razionalizzare non solo perché è giusto e perché chiaramente una pubblica amministrazione quando utilizza soldi pubblici li deve maneggiare con cura e con parsimonia, ma anche perché il CAS è una forma di assistenza residuale che andrà scemando via via e quindi dobbiamo gradualmente consentire il passaggio in case e map proprio perché non possiamo assolutamente permetterci che a un certo punto il CAS cessi e migliaia di famiglie ci chieda un alloggio.